Vorresti avere un maggiore controllo sulle cose? Quando qualcosa non va esattamente come voi tu ci rimani male per giorni? Allora seguimi con attenzione fino alla fine di questo video perché tra pochi minuti la tua vita non sarà più la stessa. Ciao, sono Simone, bentornato sul mio canale YouTube. Ti ho appena fatto una promessa altisonante, bold promise come dicono gli inglesi. Ti ho promesso che se mi seguirai la tua vita cambierà e non sarà più la stessa. E credimi, sarà veramente così. Oggi ti voglio parlare di tre sfere che vengono definite la sfera del controllo, la sfera dell'influenza e la sfera del coinvolgimento, che sono quelle che vedi in questo momento. Queste tre sfere sono una rappresentazione grafica di ciò su cui tu hai il controllo e ciò su cui tu non eserciti alcun controllo. Oppure, sfere intermedia, su cui puoi esercitare dell'influenza. Vediamo di chiarire il concetto di metterlo a piedi a terra. All'interno della sfera del controllo rientrano tutte quelle attività che tu puoi effettivamente controllare. E sono molte poche, perché sono tutto ciò che ha a che fare con te stesso. Quindi, lì dentro, rientra il rapporto che tu hai con te stesso. Tu puoi controllare i pensieri che fai, puoi controllare le parole che dici, puoi controllare come ti vesti, puoi controllare cosa mangi, puoi scegliere le tue amicizie. E poco più. Puoi scegliere come investire il tuo tempo, certo. Se decidi di investirlo crescendo e migliorando come persona, oppure guardando Instagram e le auto da corsa tutto il giorno, per dire. Chiaramente sono tutte scelte legittime, sono tutte nel tuo controllo, ma influenzano l'outcome, il risultato della tua quotidianità. Appena all'esterno di questa sfera del controllo, c'è la sfera dell'influenza. Nel momento in cui tu non sei più l'unico decisore, ma nell'equazione rientra una seconda persona, tu non hai più il controllo sulla situazione. Tu al massimo puoi influenzarti. Pensiamo al rapporto di coppia. Diciamo che io voglio fidanzarmi con Belen. Non posso avere il controllo sulla situazione. E quindi non posso neanche prendermela se poi le cose non vanno così. Perché tutto il più, a fatto che io la conosca, posso cercare di influenzarla, di esercitare la mia influenza su di lei e quindi fare in modo di piacerle, diventare o essere il tipo di uomo che lei vuole. Insomma, posso cercare di, appunto, avere un'influenza sulla sua mente, sulle sue decisioni, ma di certo non la controllerò. Molte persone, ad esempio, quando scendono in trattativa, pensano di poter avere sempre il controllo. Che anche le responsabilità, perché la responsabilità va di pari passo col controllo, sia loro. Ma tu al massimo puoi avere la responsabilità di esserti espresso nei migliori dei modi, di aver stabilito bene la tua strategia, aver capito qual era il tuo piano A, qual era il tuo piano B, aver studiato la tua controparte, sapere quando alzarti dal tavolo, o semplicemente in un rapporto più semplice, come, torno a dire, quello di coppia o con i figli, tu puoi avere la responsabilità di esprimerti nel migliore dei modi, di avere chiaro che cosa vuoi dire, cercare di dirlo al meglio. Puoi avere il controllo, quindi, e ritorniamo nella sfera più piccola, in parte sulle tue emozioni, ma nel momento in cui tu pronunci una frase, la lasci andare, così come sto facendo io in questo momento con te, che ti sto parlando. E io controllo sulle parole che scelgo, sull'inquadratura che sto scegliendo, e sul video che voglio fare, ma poi l'effetto che questo video avrà su di te è al di fuori del mio controllo. Giovanotti diceva in una canzone, parlando appunto delle sue canzoni, diceva che quando è fatta è fatta con le sue gambe vola. E qui è uguale, anche i miei video, una volta che sono fatti, sono fatti. Non so che influenza avranno sulla tua vita. Posso semplicemente concentrarmi nel dare il meglio ciò che è nella mia sfera del controllo e poi l'intenzione è buona, ma l'effetto che avrà non lo posso sapere. Quindi se già comincio a pensare, che ogni volta in cui nell'equazione della tua vita subentra una seconda persona, ma anche sul tuo cane non hai controllo, puoi avere l'influenza, tutto al più. Quindi ogni volta in cui compare un secondo essere vivente all'interno dell'equazione, tu non hai più controllo. E se pretendi di avere controllo, fallirai in partenza. Perché è come pensare di uscire dalla finestra che ho qui di fronte, dal settimo piano, aprire le braccia e volare. Non puoi, non è nel tuo controllo, ti schianterai a terra. E poi non potrai pentirti, dire caspita, mi sono schiantato a terra, pensavo di poter volare, avevo tutto sotto controllo. No, semplicemente non era tutto nel tuo controllo. Fare questo switch mentale ti permette già di capire che buona parte delle preoccupazioni che hai, puoi riversarle dall'influenza alla sfera di controllo. Quindi anziché pensare voglio che la mia controparte dica così, voglio che mia moglie faccia cos'ha, voglio che mio figlio, e se non ci riesco è colpa mia, concentrati su ciò che veramente dipende da te. Cioè dire bene le cose, essere un buon partner, un buon genitore. La sfera più esterna, amico mio, è quella in cui molte persone vivono tutte inguaiate e rappresenta la sfera del coinvolgimento. Cioè qualcosa su cui tu e io non abbiamo neanche la minima influenza. La guerra in corso, il meteo, l'andamento della borsa, è inutile che ce la prendiamo. Più queste sfere sono lontane, sono distanti dalla nostra sfera del controllo, minore, come hai capito, è l'influenza che possiamo esercitare. E quindi minore deve essere la preoccupazione. E lo dicevano anche i filosofi antichi, se non dipende da te, perché preoccuparti? Non dipende da te, non puoi farci niente. E allo stesso tempo, se dipende da te, perché preoccuparti? Vuol dire che è nella tua sfera di controllo, vuol dire che puoi farci qualcosa. Questo è un segreto per vivere molto più tranquilli, per impiegare meglio il proprio tempo. Perché se tu cominci a concentrarti solo sulle cose su cui tu hai veramente il controllo, intanto diventi più consapevole, stabilisci un perimetro. Capisci che da lì in avanti non è più cosa tua, ma non te ne stai lavando le mani, non è menefraghismo, è consapevolezza dei nostri clienti. Facciamo un esempio molto pratico e semplice, ad esempio con le finanze. Ok? La sfera esterna, la sfera del coinvolgimento per quanto riguarda il denaro, i soldi in generale, può essere rappresentata, ad esempio, appunto, dell'andamento del mercato, della borsa. il dollaro sale, il dollaro scende, le azioni più generali salgono, scendono, ci puoi fare ben poco. È inutile che te la prendi perché non dipende da te. Se vuoi continuare ad aumentare le tue finanze, allora potresti rientrare nella sfera dell'influenza. Quindi, se sei un lavoratore dipendente, allora potresti cercare di parlare con il tuo capo e avere un'influenza su di lui al fine di farti aumentare lo stipendio o di ottenere una promozione. Se invece sei un professionista, un imprenditore, allora puoi cercare di aumentare l'influenza che hai sui tuoi clienti, fare del marketing nuovo. Anche il marketing, se ci pensi, è una serie di materiali lanciati come le canzoni di prima che quando è fatta è fatta con le sue gambe vola. Tu puoi influenzare chi lo riceverà con il linguaggio persuasivo, delle immagini super belle, dei video, tutto quello che vuoi, ma avrai soltanto influenza. Quindi, se sei, dicevo, un libro professionista, potrai cercare di chiudere più contratti, portarti a casa più clienti, ma anche lì hai solo influenza su di loro. Non puoi mettergli la penna in mano e farli firmare. La sfera su cui devi concentrare la maggior parte delle tue energie, l'abbiamo capito, è la sfera del controllo. Quindi, se sei un dipendente, ad esempio, chi vi ha delle entrate fisse, puoi decidere di controllare meglio le tue uscite. E non so, tirare un pochino cinghia o disdire quelle quattro abbonamenti da 10 euro che non segui, non lo so, fare ciò che rientra nel tuo specifico controllo. Se sei un professionista, se sei un imprenditore, allora puoi, ad esempio, ne dico una, seguire un corso di comunicazione o di negoziazione. Perché? Perché nel tuo controllo seguirla e migliora, aumenta l'influenza che puoi avere sui tuoi clienti o sui tuoi prospect. Oppure, puoi decidere di cambiare strategie di marketing, quello lo puoi controllare, puoi controllare il fornitore, la social media manager, la web agency che ti segue, l'effetto, chiaramente, non lo controllerei più perché è al di fuori della tua parte. Bene, prima di arrivare alla conclusione di questo video, ti ricordo che qui sotto trovi il link per scaricare il mio manuale codice OCCAM 8 mosse infallive per vincere ogni trattativa e il mio videocorso gratuito in quattro lezioni. I link sono qui sotto, se hai qualunque commento, mi raccomando, sfrutta i commenti sotto, se hai delle domande scrivimi, ne parliamo insieme e vedi che cerco di dare risposta a tutti i commenti che mi arrivano. Che cosa vorrei che ti portassi a casa da questo video? Una cosa tanto semplice quanto importante, che più lasci andare e accetti di non avere il controllo su buona parte della codica, sulla stragrande maggioranza della codica e non le vivrai. Più ti concentrerai su ciò che è in tuo controllo, ovvero probabilmente aumentare le tue competenze in modo da influenzare più gli altri, scegliere le persone che frequenti, perché quella è una scelta che puoi applicare nel tuo controllo, in modo da accrescere il tuo bagaglio culturale e la tua crescita personale. Quindi più ti rivolgerai al centro e più trascurerai il resto e meglio è. Vorrei lasciarti con un esercizio da fare per te che se hai piacere puoi postarmi sotto o puoi condividerlo nelle mie mail e trovi tutti i miei contatti sotto. Prendi un tema che per te è importante. Io ho fatto l'esempio di risparmi ma potrebbe essere qualcosa che ha a che fare con la tua carriera, l'aumento di stipendio, il matrimonio, il rapporto con i figli, ciò che per te è importante. Disegna queste tre circonferenze che rappresentano la sfera del controllo dell'influenza e del coinvolgimento e scrivi in ognuna di esse dove rientrano gli aspetti che ti preoccupano. Se ti accorgi che ti stai preoccupando per cose che ti coinvolgono ma su cui tu non hai alcun potere allora puoi tranquillamente cassarle, eliminarle e non pensarci più. Se invece ti stai preoccupando per qualcosa che rientra nella tua sfera di influenza allora è bene capire che devi migliorare, aumentare le tue competenze che sono nel tuo controllo per avere più influenza su quella circostanza, essere più persuasivo, essere più tecnico, essere più preparato, essere più bravo, qualsiasi sia l'aggettivo che ti serve per raggiungere il tuo obiettivo. Ma anche lì devi essere pronto ad accettare la sconfitta, cioè a sapere che non dipende solamente da te, se la tua controparte è chi c'è dall'altra non ne vuole sapere, devi fartela una ragione. Il massimo della tua concentrazione devi dedicarla a ciò che è nel cuore, nella sfera del tuo controllo. Comincia a controllare ciò che pensi, i pensieri che fai creano la tua realtà, comincia a scegliere le parole che utilizzi, perché anche le parole che utilizzi creano la tua realtà, come le parole che io ho utilizzato fino ad oggi hanno creato la realtà che stiamo condividendo. Comincia a scegliere chi frequenti, cominci a scegliere come spendi il tuo tempo e avrai risolto il 90% dei tuoi problemi. Bene, ti ringrazio per avermi seguito, ti do appuntamento al prossimo video e come sempre ti ricordo, se senti rumori di zoccoli, pensa a cavalli, non a zebra. che ti ringrazio per avermi seguito, per avermi seguito, per avermi seguito, ci ringrazio per avermi seguito, Grazie.